Oggi facciamo una cosa figa figa figa, bella bella bella, semplice semplice semplice, ma da sprizio, da Necroni, da venerdì, andiamo a vedere che cosa ci dice i pattern, i pattern storico per eccellenza di Bitcoin di questa fase e se si replica quel pattern storico, dove andiamo, dove stiamo diretti e soprattutto in quanto tempo. Ben ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, rigorosamente lancio della moneta, sono riuscito a prendere la vernina che caresta perché se cade la moneta, disastro ragazzi, cioè, proprio, capito? Un altro MT Gox, e niente, la moneta, terza volta che ci dice che si scende ragazzi, terza volta la moneta dice che si scende, va va, ok, 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 cambio sta moneta, va, va bene. Allora, detto questo ragazzi, andiamo a vedere oggi un pochettino la questione storica di Bitcoin per fare un giochino, un po' non un video più rilassato. Ci sono due, tre cosette che vi faccio vedere prima di andare a fare questo episodio, questa parte così, però andiamo in sostanza a cercare di comprendere il pattern storico per eccellenza che si sta andando a verificare a livello di lungo periodo di Bitcoin di questa fase, qual è intanto, come si è comportato storicamente e soprattutto andiamo a vedere se si replica nello stesso identico modo, che cosa succede, dove arriviamo con i pricing di Bitcoin, in quanto tempo, come si evolverà in questi prossimi mesi la situazione a livello pricing e di zigzag, movimento, volatilità dei prezzi. Ovviamente è una, diciamo, simulazione, chiaramente andremo a fare una simulazione, non sarà pertinente, diciamo, no, con quello che succederà nel futuro, però ci dà un'ottica, una linea generale, come avere le luci accese su una grande strada. Route 66, che per me è una vera eccellenza della mia cultura rock, la più spica di tutti, e andiamo a vedere dove ci porta, perché secondo me resterete veramente svalorditi e soprattutto si avrà anche molta enfasi, molta chiarezza su queste cose. Detto questo, oggi è un altro video che fa parte della super settimana delle offerte sui pricing, perché è la settimana della formazione per quanto riguarda Trading Gone, c'è la seconda parte, la seconda parte dello step delle offerte, la prima è scaduta mercoledì, ragazzi, è andata molto molto bene, sono contento, grazie. A proposito, risponderò a due domande che mi fate sempre, perché altrimenti siamo sempre lì. Questa scade oggi ed è assolutamente importante ricordarsi la data, tra sette ore. Siamo nella seconda fase, version 2 di questa offerta, poi ci sarà l'ultima che scade lunedì con un altro bonus, ma mai come questa qui, ragazzi. Quindi questa è la più conveniente in questo momento ed è importantissimo ricordarsi che mancano veramente poche ore. Vi rispondo ad alcune domande che mi avete fatto sulla questione del corso. Nella live dell'ultima volta vi ho spiegato che sostanzialmente quello che andremo a fare in questi mesi e prepararci il più possibile per poter cavalcare l'ultima fase di minimo che Bitcoin dovrebbe proiettare insieme alle altcoin. Alcune altcoin, tra le altre cose, lo stanno già facendo. Guardate, ad esempio, Unico, la questione della SEC, che cosa sta andando a creare. Sto andando a creare proprio il classico pattern di chiusura ciclica e già vi dico che Unico, fa parte, per esempio, di un portafoglio che noi abbiamo in fase di creazione con l'Academy. Adesso vi mostro anche i risultati, ho deciso così. Vi mostro anche quel portafoglio, ma vi garantisco non dovete replicarlo in nessun modo perché è al 30% di esecuzione, manca il 70%. Comunque adesso ne parliamo. Però in pratica l'importanza della formazione in questo contesto è particolare perché è l'ultima chance di prendere questa fase di down, di deep, prima della volata finale, che secondo me potrà esserci questa volta. Poi magari possiamo essere smentiti dal mercato, ci mancherebbe, ma comunque formarsi male non fa. Allora, la domanda per eccellenza. Mauro, quante ore ha il corso It's Training Time e come è strutturato? Allora, It's Training Time, ragazzi, non è un corso che voi potete andare a replicare andando a guardare video gratuiti. Per quelli ci sono i miei video, anche quelli degli altri canali, andateli a vedere quelli lì, ok? Ma non è assolutamente, cioè siamo lontani, anni luce da quel tipo di concetto. Questo è un corso che ha 30 ore di video, ragazzi, corrispondono più o meno a 100 video miei YouTube, cioè in media 12-18 minuti, scusate, a video, cioè 100 video YouTube, ragazzi, non so se ci siamo spiegati, va bene? Più di un anno di YouTube intero, ma ovviamente questi video sono impossibili da creare su YouTube perché sono videotecnici, operativi, ci sono live in tempo reale, quindi non è un corso così, cioè non è una cosa che andate a compagere, questo è un corso definitivo, non avete bisogno di fare niente dopo. L'unica cosa che vi serve è studiare magari un approfondimento su alcune tecniche, la parte operativa, quella che si fa in learning by doing, che appunto facciamo in Academy, ma non è una cosa leggera, ok ragazzi? È un corso come dovrebbe essere un corso, ragazzi, come quando fate un corso universitario di una certa portata che dura sei mesi, un anno, non è una cosetta così, non sono quattro lezioni così. Quindi per favore, insomma, cerchiamo di capire la differenza. Io sono molto preciso sulle cose quando parlo e ovviamente non metterei mai il mio brand su una cosa che non ritengo di un certo livello, va bene? È assolutamente, it's train time, è di un certo livello, quasi 100 video YouTube in pratica in termini di ore. Poi la seconda cosa che mi chiedete veramente spesso è, ma io posso contattare qualcuno mentre sto facendo il corso? Ma certo, ragazzi, ovviamente tutta l'assistenza del corso è sviluppata in Academy. Infatti il corso ha tre mesi di Academy gratuiti, aggiuntivi, che non rendono praticamente gratuito perché, come vi spiegavo anche nella precedente live, questo corso ha anche, dà a disposizione agli utenti, un pricing molto agevolato per quanto riguarda l'Academy, con 100 euro trimestrali di sconto a vita per gli utenti che restano in Academy, che rende in pratica il corso completamente gratuito alla fine, perché basta restare in Academy se, appunto, vi piace chiaramente quello che facciamo, eccetera, e il corso ve lo ripagate con lo sconto lifetime, il direttore è andato a guadagnare. Ma concettualmente è proprio in Academy che avviene tutta l'assistenza, lì potete scrivermi anche direttamente attraverso i direct message, ma poi ci sono gli altri utenti, ci sono mille lezioni, mille tutorial, mille FAQ, è difficile che avrete dubbi su questa cosa. Alcuni mi scrivono, ma pochissimi, sono sincero, e questo per me è una grande vittoria, perché significa che tutti quelli che hanno fatto questo percorso non hanno bisogno di grandi chiarimenti, tanto è vero che, insomma, anche nelle varie recensioni, questo è un dato che è sempre uscito, cioè la chiarezza, la chiarezza, la semplicità, perché poi il corso mira ovviamente a eliminare tutta la questione del eccesso di formazione. Quindi ragazzi, mi raccomando, vi lascio il link in descrizione per le ultime ore, sette ore per questa offerta, chi di voi si vuole formare. Andiamo a vedere anche qualcosina che è all'interno di quello che noi facciamo proprio nell'Academy. Intanto, una cosa che ci serve nel video di oggi, Outside of the Moon, il tool che ho già spiegato l'altra volta, in pratica è un sistema di trading che trovate poi all'interno del corso Academy, che è incluso appunto nel corso Basic Easy Trading Time 2.0. Questa Outside of the Moon oggi ci dà una grande informazione. Non era così semplicemente due giorni fa, guardate come è cambiato, cioè su USD, andando sulla tabella, vediamo che moltissime cripto hanno iniziato ad essere in position short, e anche su Bitcoin di più a dire, addirittura una sola di più e sono quasi tutte in position short. Alcune restano neutrali e una sola long che è, scusate, due solo long che sono TetaFuel e Ant, che sono su Bitcoin long e anche su USD. Ha la stessa Phantom che ha performato meglio rispetto alle altre, è ancora neutrale, ma guardate le altre da Cake, Eagle, ICP, Inge, Matic, Matic che sta scendendo diciamo in maniera profonda, uno delle mie cripto che è appunto come diciamo nel video 4 plus 1 cripto da aprile in poi, da tenere sotto controllo, ce lo avete il video ragazzi, cliccateci sopra in quelle sono le quattro che dobbiamo tenere più una sotto controllo da aprile in poi quando appunto questo ribasso sarà terminato, definitivamente, e anche uniche appunto che vi ho fatto vedere prima, eccetera. Insomma ragazzi, ci dice che una informazione qualcosa sta cambiando, cioè si stanno un po' inclinando alcuni dettagli, adesso vi faccio vedere anche un grafico importantissimo su Bitcoin. Poi vi avevo promesso, anzi facciamolo così, vediamolo subito, altrimenti ci spostiamo. Allora, si stanno inclinando e soprattutto questo costrutto qui ragazzi, questo costrutto qui che sta andando a realizzare, teoricamente sarebbe una figura di continuazione del trend. In pratica non è precisamente così, tanto è vero che in questa lezione, che adesso vi faccio vedere proprio del corso, cioè quella relativa per esempio al mio pattern Kaimi, questo tipo di approccio è essenzialmente da attenzionare. Allora, la lezione è questa ragazzi, c'è una super password, eccetera, comunque poi ve la faccio vedere, ah, tra le altre cose alcuni mi chiedono, Mauro, quando aggiorni le lezioni sul Fibonacci? Mi giro ragazzi, non so che fare prima. Comunque le lezioni attuali sono vecchie come, diciamo, registrazione, ma è completamente valida. Però la voglio aggiornare in un altro modo, cioè utilizzando il famoso livello 78.6, quello della maglietta che adesso arriva, e la mettiamo. Però, allora, questo pattern che si sta andando a creare è un pattern Kaimi rivoltato, il che significa, cioè invertito. Noi dovremmo guardarlo in pratica così. Se lo guardiamo in questo modo, ho semplicemente rivoltato il grafico, ecco che spunta il pattern Kaimi. Quanto è assolutamente, assolutamente impegnativo, diciamo, in questo modo, è particolarmente delicato questo pattern qui, ragazzi. Dobbiamo attenzionarlo. Comunque trovate scritto anche nella lezione, in quella parte là, veramente importante. Perché questo pattern può indicare un'inversione. Che io ancora sono dubbioso, perché sta tenendo una trendline e non ha confermato, è troppo vicino ai massimi. Però una debolezza in questa zona e un cambio sarebbe deleterio, perché la conferma del pattern Kaimi arriverebbe sotto i 60.000 e decreta a quel punto una fase molto negativa. Io non credo che arriviamo molto giù, però io attendo quella fase veramente con la speranza di poter fare dei buy interessanti laddove le cose non dovessero diventare catastrofiche, ovviamente. Altra cosa importante che vi avevo promesso, la questione legata al portafoglio delle cripto, vi dicevo, Uni è presente all'interno di questo portafoglio, lo trovate qui, e va incrementata perché è poco. Allora, questo è un portafoglio che non dovete, intanto, in nessun modo copiare, perché se lo copiate, ragazzi, vi vanno dal canale, va bene? Non perché... ovviamente non lo posso fare, non lo so se lo copiate. Però, ragazzi, è pericolosissimo. Se fate una cosa del genere e non sapete quello che state facendo, noi abbiamo creato questo portafoglio con delle logiche e questo portafoglio qui seguirà delle logiche, quindi va seguito, monitorato e modificato di volta in volta. Se lo copiate e non sapete cosa state facendo, vi fate malissimo, non va in nessun modo copiato e non do assolutamente consigli finanziari. E per dimostrarvi un po' l'operato anche di quello che stiamo portando avanti, questo è uno, tra l'altro, dei due progetti di portafoglio cripto che stiamo realizzando in Academy. Avevo messo questo tipo di cripto, ce ne ho altre che sto tenendo sotto controllo per un accumulo. Abbiamo accumulato solo il 34% delle posizioni su un capitale di esempio di 100.000 dollari e siamo attualmente in guadagno del 38% circa, siamo stati fino al 62% di gain. Adesso questo non è un portafoglio trading, è un portafoglio per la season ed è quello che gestiremo insieme se venite a far parte anche dell'Academy. E questo tipo di portafoglio deve ragionare a medio e lungo periodo. Ciò significa assumersi anche il rischio di perdita perché se l'alte season non avviene, questo portafoglio perde perché l'obiettivo suo è cavalcare l'alte season. Ciò significa che al massimo noi potremo correre ai ripari, perdiamo poco, guadagniamo poco, ma non è possibile fare altrimenti perché l'obiettivo costruito di un portafoglio del genere è per fare l'alte season. Quindi se andiamo in alte season qui facciamo numeri ragazzi, è quello che a noi interessa. E poi a questo aggiungerò anche le altre crypto che stiamo creando. In effetti questa fase come vedete manca il 66% che ancora deve essere accumulato e come lo faremo? Con le ultime dip che arrivano. Insomma ecco questo è il concetto che ci sta dietro. Ok vi ho risposto a tutto, andiamo a vedere questa questione legata al video di oggi che volevo dimostrarvi. Come sempre ragazzi mi raccomando non vi fate scappare questa offerta, quelli di Trending One mi picchiano se non ve lo ripeto. In continuazione andate qui se vi interessa la formazione entrare a far parte dei nostri gruppi. È un'occasione da non perdere solo 7 ore per questa seconda fase. Poi prezzo sale ancora, quindi non vi fate scappare questa promo. Andiamo a vedere il grafico che volevo mostrarvi ed è questo di medio-lungo periodo e facciamo questo gioco insieme di simulazione. Andiamo a prendere quello che è il pattern in questione che sta andando a fare a livello ciclico Bitcoin. Lo prendiamo, lo guardiamo, lo spalmiamo sull'attuale fase e andiamo a vedere dove arriviamo, quando ci arriviamo e quali probabilità abbiamo di fare questa cosa. Tra figa! Allora intanto io nei precedenti video vi ho spiegato che questa attuale fase ciclica per me è rappresentata dall'anno 2016-2017 e non dalla precedente bull run. Perché il massimo pre-albing che stiamo andando a fare e sembrerebbe Bitcoin volerlo mantenere, ancora non è detto, potrebbe aggiornarlo a breve, però perché ancora comunque sull'albing mancano 6-7 giorni, però in linea di massima al momento ragioniamo così, come se il massimo fosse stato quello che abbiamo fatto. implica che siamo nell'ottica della bull run del 2016-2017, la migliore secondo me, a parte le vecchie vecchie vecchie, ma la 17 comunque la migliore per tanti motivi, perché era più strutturata. E tra le altre cose, anche i dati di natura fondamentale su Bitcoin, gli ETF, la creazione di tutto quello che sta avvenendo con l'implementazione degli ETF e dell'istituzionalizzazione di Bitcoin, secondo me lo fanno somigliare molto di più a quell'anno perché quell'anno ci fu l'implementazione dei future CME di Bitcoin e quindi fu una bull run creata anche da quello, quindi proprio dall'acquisizione del Bitcoin spot per creare i future del CME. Quindi molto simile da questo punto di vista. Ma dove siamo? Dove siamo in questa fase rispetto alla precedente? Io qua vi ho già segnato un dato. Sono passati circa, andiamolo a fare insieme, sono passati circa come prezzo, 500 giorni dal minimo che abbiamo realizzato. Sono grafici settimanali, quindi non siamo al giorno. Comunque 504 giorni, ragazzi. Quindi in pratica il pattern che noi stiamo andando a prendere a riferimento dovrebbe essere questo qui, 504 giorni dal minimo della settimana del 12 gennaio 2015. È questo il pattern. Intanto andate a controllare come siamo più bassi qui rispetto a dove siamo adesso. Perché dove siamo adesso è meglio. Questo significa che due sono le cose, o quest'anno sta andando meglio, o l'anno precedente, i massimi della bull run precedenti, sono andati peggio. Volete la mia opinione? Sono i precedenti che sono andati peggio. Perché dovevamo fare qualcosina in più. E non l'abbiamo fatto. Perché dovevamo arrivare anche, secondo me, fino agli 80, 81, 82 sarebbe stato possibile nella scorsa bull run. Perché non l'abbiamo fatto? Per la questione legata alla politica monetaria della Fed, restrittiva sui tassi di interesse, l'impernata dell'inflazione e tutto quello che è successo. Quindi secondo me non è che stiamo andando meglio quest'anno. Siamo negli scorsi anni stati troppo bassi. Io la penso così, però ovviamente, come si dice, il bicchiere è mezzo vuoto, mezzo piano, anche cambia granchezza. Possiamo anche considerare quest'anno è andato benissimo. Allora, in pratica, da questa view, il pattern ciclico che stiamo andando a prendere, ci dice che manca questa fettina piccolina di bull run, che vi mette in evidenza la stragrande importanza di essere formati e preparati nei prossimi mesi. Cioè, se c'è un momento in cui farlo, è questo, ragazzi, ok? Poi io ve l'ho detto e poi vabbè, ok? Sono complitto, interesse, tutto quello che volete, però qua c'è veramente, non ci vuole granché a comprendere queste cose. Andiamo a fare una cosa, andiamo a dirgli a Multichars. Mi dici da qui a qui il pattern che è stato costruito, qual è? Ed eccolo, ragazzi, ce lo andiamo a prendere tra le altre cose. E vabbè, lasciamolo di colore bianco, facciamo così. Lasciamolo di colore bianco. Questo è il pattern che marca e ce lo andiamo ad incollare all'attuale fase. E andiamo a vedere che cosa, che cosa succede, ragazzi. Eccolo qui. Teoricamente questo è quello che dovremmo avere tra poco. Cioè, è quello che dovremmo, potremmo vedere tra poco se il mercato facesse lo stesso atteggiamento del 2017. Cosa che probabilmente non farà. Ma non siete scemi, lo sappiamo tutti, ve l'ho detto mille volte questa cosa qui. Però ci sono dei dati che invece sono significativi da andare a prendere. Perché, ok, non ripete alla perfezione. Sì, però gli atteggiamenti, molti atteggiamenti sono simili. Comunque, in ogni caso, è sempre meglio avere un punto di riferimento piuttosto che navigare al buio, che non ha senso. Qualora i dati noi li abbiamo, li andiamo ad analizzare. Poi, non dovesse essere così, ah, me ne ne facciamo. Non è che, insomma, lo sappiamo che potrebbe non essere così. Non muore nessuno, no? Cioè, però intanto, come andare a dire, ok, io prima di andare a mangiare una pizza, le recensioni me le guardo. Poi magari la pizza, quel giorno lì, farà schifo rispetto alle recensioni. Ma io almeno le ho lette. Cioè, qualche probabilità in più ce le ho. No, che magari sto andando in un posto a mangiare una cosa buona. È la stessa cosa, sta qui. Allora, intanto, un atteggiamento interessantissimo è questa cosa qua, ragazzi. E ora ve lo dico, vi faccio sorridere. Questa zona di minimo che corrisponde esattamente, esattamente, a questa parte qui. Cioè, questa parte discendente. Questa parte discendente sembrerebbe, sembrerebbe essere coincidente con la fase di minimo che mi attendo proprio su Bitcoin nella struttura, nella chiusura di quella che è una seconda fase ciclica annuale. La prima l'abbiamo avuta qui. Questa è la seconda fase ciclica e dovrebbe chiudere intorno a più o meno giugno-luio. Questa cosa qui, guardate, come la richiama, no? La richiama fatto in questo modo. Ora, potrebbe anche non fare il massimo che, appunto, vi dicevo, non è detto che da qui vado a fare un nuovo massimo. Potrebbe averlo fatto qui e ci incischia un po' e poi va a fare questa fase di chiusura. Quindi, com'è che non replica alla perfezione. Però è interessante andare a vedere come, anche in questo contesto, anche gli anni precedenti, il ciclo precedente, ci dice che c'è una possibilità che ci sia una fase un po' delicata che potrebbe anche durare un pochino. Perché questa fase delicata, nei cicli precedenti, è durata circa 49-50 giorni. Questa cosa è interessante e quindi dobbiamo andarla a prendere. Sono quasi due mesi di fase ribassista, che non è da poco, ragazzi, e che sarebbe il nostro punto di ingresso, appunto, come vi dicevo, pre-fase finale. Dopodiché c'è solo una grande scalata. Poi qui, in questo mio grafico, vedete, è una serie di punti dove io ho messo dei possibili max. Questi, guardateli, ma non hanno grande appeal. Io li ho utilizzati in base a interpolazioni di dati ciclici. Hanno valore né, sinceramente ritengo lì come i pilastrini, come si chiamano, come i divisori nelle autostrade, no? I birilli. Ci sono, però non li considero più di tanto. Poi, quando ci avviciniamo a determinata data, allora, se siamo intorno, li prendo in considerazione un po' di più, un po' di meno. Però, ora non li voglio cancellare, ragazzi, altrimenti devo rifare tutta l'analisi, va bene? Però ce n'è uno che coincide con la fase di massimo, perché qui, guardate un po', teoricamente, io l'avevo posizionato, andremmo praticamente ad avere dei massimi due o tre settimane prima, come ho segnato io, o dopo, come è il pattern ciclico precedente. Quindi, la fase, in pratica, dovrebbe essere questa qui. Tra le altre cose c'è anche un'altra coincidenza, Cioè, la chiusura della seconda, della terza, scusate, movimento annuale, che esattamente coinciderebbe poi con aprile del prossimo anno, circa, dovrebbe essere tra aprile e maggio, anzi, scusate, qui è maggio-giugno, quindi, comunque, da aprile a giugno, la zona centrale, quella lì che dovrebbe essere, appunto, coincidente con la chiusura del doppio movimento, che lancerebbe la coda finale della Burran, che porterebbe ai massimi storici della nuova fase di Bitcoin. Questa struttura, così costruita, quanto è simile all'attuale fase ciclica? Perché abbiamo due minimi importantissimi, che sono effettivamente molto simili, e i minimi sono l'ABC dell'analisi ciclica, questa fase è molto simile alle precedenti, quindi, occhi puntati, ragazzi, a questo tipo di logica. Bene, il periodo, la fase, e già vi ho accennato alcune fasi, allora, prima la fase di chiusura di questa zona, poi la fase di chiusura di questa zona intorno all'anno prossimo, ci serve tanto e non quanto, manca un anno, cioè, frega niente in questo momento, va bene, e dopodiché la fase finale, che dovrebbe portarci a un massimo storico, ottobre del 2025. Tanto tempo, ovviamente, questo è un giochino, non è possibile prevedere una cosa del genere con anni di anticipo, sì, le pattern ciclici ci dicono questo, la realtà ci dirà un'altra cosa, o magari è simile, fatto sta che dobbiamo starci con i piedi di piombo tutti i giorni sopra a guardare quello che fa e a seguire questo match, questa gara, questa partita, però un dato lo abbiamo, e soprattutto, ma il pricing, dove ci porta una cosa del genere? Perché anche il pricing in questo contesto è corretto, e ci porta a questo livello, 190.000 dollari, che secondo me è un po', anzi, ragazzi, no, qui è veramente, scusate, molto più alto, è 1.900.000 dollari, scusate, eccolo qui, che ci porta appunto a un prezzo esageratamente alto, che non è assolutamente da prendere in considerazione, secondo me, perché non rispetta la riduzione della volatilità dei prezzi dovuta alla natura dei mercati, quando il prezzo di un asset aumenta di valore, quindi la market cap, per essere precisi, aumenta di valore, quindi a livello di movimento, come vi dicevo, di atteggiamento, può essere preso in considerazione ripetitività dell'atteggiamento up and down, a livello di target price, no, assolutamente, perché non ha nessun tipo di ricollocamento in termini di volatilità, che è invece assolutamente dovuto, a livello proprio matematico, statistico, in quanto Bitcoin non vale gli 800-700 dollari di quegli anni, ma vale appunto 70.000 dollari. Morale della favola, io vi avevo anche accennato a un pricing che avevamo già indicato precedentemente, ed era intorno, ragazzi, ai, eccolo qui, non mi ricordo tutti questi numeri, allora in pratica doveva essere in zona 123, io ho pubblicato questo dato, 1, 2, 3, 123.000 dollari, come target possibile, e questo secondo me è possibile in questo contesto di Bitcoin, su io non mi esprimo, non mi interessa, devo essere sincero, poi si entra veramente in dati che sono fantasia, secondo me, è possibile anche andare su tutto, è possibile nella vita, ma questo è un dato che invece va a riprendere dei concetti di natura statistica, di volatilità, e quindi ha una logica matematica, non è campato in aria, però guardate quanto è più basso rispetto al precedente, non cambierebbe perché concettualmente l'unica cosa che avremmo sono dei mini movimenti, a noi interessa questo qui ragazzi, noi avremmo magari mini movimenti fatti in questo modo, eccetera, poi io mi sono tenuto un po' basso, non mi nascondo che c'è un secondo target che è in questa zona qui, ma di questo ve ne voglio parlare poi quando sarà, e se il mercato avrà serie, diciamo, voglie di andare veramente su. Va bene ragazzi, allora vi ricordo, ultime veramente poche ore, sono sei ore adesso, cinquantadue minuti, per la super offerta dei corsi di Strain Time 2.0 di Trading On, basic 2, immancabile la preparazione nei prossimi mesi, non vi interessa se fate il corso e questo percorso qui, ma preparatevi ragazzi, questo è un consiglio che vi do in maniera pregiudicata, personale, preparatevi, è importante, vi cambia la vita, preparatevi, ho detto la stessa cosa anni or sono, prima della precedenza, per un run, ve lo ripeto, anche in questo caso. Noi ci rivediamo nel prossimo video e ovviamente, buon weekend a tutti, ma forse se riesco domenica vi faccio un super video molto bello su Bias Cognitivi e come li stiamo affrontando noi in Academy e attraverso alcuni meccanismi, giochini, che possono salvarvi, secondo me, da errori grossolani. Ciao a tutti, buon weekend!